A me viene in mente anche una ricerca, adesso la cita a memoria, quindi non mi ricordo bene i riferimenti al volo, una ricerca già di uno o due anni fa sul bullismo nelle scuole e i ricercatori avevano rilevato che più i ragazzi si sentono parte dell'istituto scolastico, adesso lo sto mettendo molto facile, però comunque il succo è questo, quindi più i ragazzi, gli studenti si sentono parte dell'istituto scolastico, quindi parte integrante e integrata dell'istituto scolastico, è probabile che emergano atti di bullismo, questa è una ricerca che è stata fatta all'interno di alcuni istituti scolastici, quindi riprendendo il concetto tuo, quindi di politica intesa nel modo che hai detto tu, io mi immagino se noi permettessimo, dando anche gli strumenti giusti ai nostri ragazzi, sentirsi parte a questo punto non solo dell'istituto scolastico, comunque rimanici coscritto, va benissimo, del territorio e della comunità con la C maiuscola, adesso io non voglio fare il profeta di turno con la sfera di cristallo, ma chissà quanto disagi in meno avremo. Questo è un progetto già messo in atto, che è proprio quel progetto che ti dicevo, civica educazione per futuri cittadini attivi, che mira proprio a responsabilizzare, mira a realizzare degli scambi e degli esempi di buona pratica, perché è anche bello che le porte di un istituto scolastico siano aperte, questo che cosa offre? Io l'ho fatto per un altro progetto del tutto innovativo, che è l'educazione alla prevenzione della violenza di genere, il progetto Io Valgo nella scuola primaria, che anche ora parte dall'infanzia fino alle superiori. Ma il concetto qual è? Aprire le porte di un istituto scolastico e ospitare quindi la territorialità, quindi altre piccole comunità educante di altri istituti dove i ragazzi possono confrontarsi, ok? Questo ecco è fondamentale. Cosa avete fatto voi? Cosa proponete di fare? Far, compre... è qui che si costruisce il sapere. Istruire significa darti nozioni e ci fermiamo lì. Lo scienziato ottiene dei risultati perché oltre alle nozioni che sa, sperimenta, no? Il termine sperimentare. Sperimentare a livello sociale e culturale significa mettersi a confronto, crescere nei guidibete e consentire ai ragazzi di essere comunità. Questi ragazzi hanno altro che intelligenti, per me hanno una sensibilità enorme e sta a noi adulti poterli valorizzare, sta a noi adulti fargli comprendere alcune cose, sta a noi adulti fargli comprendere che quello che hai in mano, perché tu sei nato nell'era digitale e hai avuto molto più stimoli di me con quello che sai fare, ma tu puoi avere il mondo in mano. Ecco, devi, devi educarli a fare in modo che abbiano delle passioni costruttive. passioni, se c'è l'entusiasmo, se c'è la passione in qualcosa, tu avrai un leader in qualcosa. Ti piace cucire? Sarai un leader, non lo so, a livello sartoriale, nascerai dal nulla. Ti occupi di una determinata tematica, ti occuperai di questo. A me interessa, per esempio, capire come aiutare i giovani sin da subito, quindi la prevenzione. Allora cosa fai? Ti aggiorni, studi, vai a capire centomila cose, fai un confronto con altri paesi, devi capire cosa ha funzionato o cosa non ha funzionato e metterlo in pratica. Metterlo in pratica. E questa è la responsabilità.